Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Nel video di oggi, affronteremo una notizia estremamente commovente riguardante Mauro Corona, la quale è stata annunciata in diretta durante l'ultima puntata del talk show Carta Bianca, condotto da Bianca Berlinguer, Mauro Corona, noto scrittore e personaggio televisivo, durante la trasmissione, ha lasciato trasparire le lacrime, rivelando un lato più sensibile della sua personalità, condividendo una storia personale che lo ha profondamente colpito. L'emozione di Corona è scaturita dalla scomparsa di un giovane ragazzo di nome Lorenzo. Visibilmente commosso, ha raccontato, in una puntata recente abbiamo cercato di aiutare un ragazzo di nome Lorenzo. Gli avevo parlato tramite la trasmissione e gli avevo mandato un goffetto profumato per fargli compagnia e dargli energia. Ma prima di continuare e scoprire cos'è successo, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Mauro prosegue dicendo, mia figlia Marianna mi ha comunicato che questo ragazzo di 14 anni non ce l'ha fatta. Non so nemmeno se abbia ricevuto il mio goffetto, questo ha colpito profondamente il pubblico, mostrando un lato inaspettatamente vulnerabile di Mauro Corona. Riflettendo sulla brevità della vita, soprattutto quella dei giovani, affermando che «la vita umana è un romanzo». Qualcuno ha cento pagine, qualcuno 40. I bambini che muoiono così giovani hanno solo la copertina, non hanno avuto tempo di scrivere quel romanzo. E voi, cosa ne pensate del pensiero di Corona?